Grazie a tutti. e noi abbiamo conosciuto a tutti i nostri amici, e noi abbiamo conosciuto il Gesù Cristo. Amen. Vieni a tutti. Allora, ci vedete, il resto che si uscite, si uscite in anni e sanni, che si vedete, il complesso alla storia, che si rispondete, chi non fa sentire invece, e si rispondete il ruotamento. Ora, sono stati vicino, ricordate, e sono stati creati, ma è che si tratta, e che si tratta, e questo viene, è la prima scuola, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Voi senti a una ticca, sei ticca vedo una pataccia. Fugati un bravo a nato, non fuga a ticca. Il riso per ottenia uona, il riso santo, ottenia uona fana strana, a un Jesus Christi, ottenia uona fana strana, a un Jesus Christi, a un uonan fana fana, a un ne, Jesus Christi. Da va. Tampo, l'uona gemarcia? Della urna a ticca, un numero. Dicca, l'uona gemarcia? Dicca. 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 Dicca, l'uona gemarcia? Dicca. 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 Celui qui subsiste par lui-même. Adicca, un dica di Andrimarcia, dia, ilaiai tzmila sabacapa, hapucani, città sabacapa, hapucani, 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 tena. Andrimarcia, sa ne, tzmila sabacchi, vena, tena, fei, anta, tena, chiesa, uam, sai, pa, marita, non c'è Andrimarcia. Andrimarcia, undrimarcia, a dupe, nine andrimarcia, andrimarcia, depe, vtia, andrimarcia, depe, sape, andrimarcia, depe? Teò non c'è un bel, ni, si, ti, yal, ne? Nifaji, yistya,- c' übers опыт, hapucani, teka, inn aquí a apa aculle tzkioro, velu benelu, ah? Voi il diabo. Si mi lascia... Nia pronti una monta di torno alle zone che a un terra Nella zona zona delle zone che a un mezzo Il mondo del nord è stato un Paolo Nella zona zona di torno alle zone che a un terra varia anche un ruolo Il mondo del nord è stato un luogo È stato un luogo per avere un ruolo si vuoi un DIABLA del sapcio sarebbe com' che è una dica mandiva di DIA, di milano dai Nihilani, di utile! E' un fuocciillo di Nihunbella, un fuocciillo di Nihunbella di gara di DIA, ti u ti amo ti u ti amo sai fu c'i un bel la rivella sai direi se che ci credo ma ti fa saranno come ademann c'è mancini ma che ti u ti amo va ademann c'è un bel e a tamasima e a tamasima un frun di amo ademann frun di amo e a tamasima e a tamasima un frun di amo e a tamasima i cha il frun di amo a tamasima ma che ci si ci immagini E' un'altra cosa. e se vissi a fare una giovanna, mi sono nulla, mi sono nulla e te ne! E se vissi a fare una giovanna, non mi sono nulla, mi sono nulla e te ne! C'è un po' più l'ascixale, che ha demanato come una salle, un'ferma che fina, un'ferma che fina, un'ferma che fina, un'ferma che fina, un'ferma che fa un'atremante. Allì si, spiava nel tuo fondo, spiava nel tuo fondo, lascia, spiava nel tuo fondo. Ogse, spiava nel tuo fondo, chéva in cuore, chéva fa un affino, è un'ferma che fina, no. Non mi fai giocato è tan fisti. Non mi fai giocato è tanto di sì, masi che poza loro stanno. Cosa vuoi? sapeva? non è fatta fare questo scelta dei gironi. oppure davvero e un giocatore allora fatti qui a te mi prende non è cyber chlorine per la vita è un video che hanno fatto non vi faccio direzzi non significa che aveva è um vino a qualcuno Ano cuo in la cosa è che non cuo, sai? Ascala la manzarra sottrati, e di non andare a cuo? Ja, sai. Ascala la manzarra sottrati, zli asmai. Di ascala la manzarra sottrati, c'na fila di nama. C'na fila di nama, nero. C'na fila di nama. Inna nyatu. Ha? Nyan, detius. Ano c'na fila di amurna, tamnya fila di ono sisi? Alita fa? Sar. Namurni si alfa lu, di hitar fa? Sar. Arifal amurni si urbe, dati da, siswe? Alita fa? Saraici Saraici Ademannia che mi chiamava un'angraza? Ha? Ha? Ademannia che ci mangi un'angraza? Ha? Saigri da natuga nas Nanggara da 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 Cuyo nyazù Pallalana Sarai Iwas panalana Saraici Sci ee taue De naian Saraici Saraici Vullamandir Del xe L'unindon Saraici ICC U Voilà Non è possibile? E' la prima cosa? Non è possibile? Non è possibile? Non è possibile? Ah? Non è possibile? Eh? Pi sarà Non è possibile? Non è possibile? Fissarana amnagemati, senti che è un papà tesala, a un'ati per un senti che ha voluto. Fissarana amnagemati, senti che è un papà tesala, sangue, rantetta nelle manca, dice, as manano le mie a spada la lanciare a sondraggia, farò, minano le mie a spada la lanciare a sondraggia, da, ta passare a come, già l'ai, sai tigono, ragu, minano le mie a spada la lanciare a sondraggia, da, ta passare a come, già l'ai, lebat tingin, sai le manca, as manano le mie a spada la lanciare a sondraggia, esone la sondraggia, Tunggak benarana Isatola in tengah Ha? Eh, banalai Kamaninan, siatana Ha? Siatana, siatana Problem manali Uppari, denita Surta Surta Masa che solle gandula Ah? Ce... Ah £ydan Ce nicaragina Diacena in tengah . Ah vacan Sa chinyak Eng an玉 Sarha Diad Ci taragina Taa Vitania Visaa Nattene Sarit Natane Ndje 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 Noi, non si, sì. Ora non sei se che a noi non mi spazzano l'anchata sancanti? Ne ha mai di. E a noi non mi spazzano l'anchata sancanti? Razzante! Ufa, sai, sì. Io gli ho messo da mi spazzano gli ufatti. E allora si, E tu mi ha ne vanniudici? Non hai visto, non hai? a a sa si ci si 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 Faggis papà tesana, chi sarà? Da un po' di macchia. E tu, per mangi marci, andavo per amare un sacco. Se c'è per macchia una scuola, 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 una scuola. Ora prom ST sponsorizzare. 400 C waters, una scuola, una scuola, una scuola, una scuola, una scuola, una scuola. cambiamo... vi poter ritirare la sua impegno è riuscito e tu gli dici vedi gli dici non arrivo gli dici erano danno la sua grattura La sua cosa è la sua? Dio, sta vita nella tua, ma non è mai così. La sua, la sua, non 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 la sua, e, ovviamente in gitan, non la sua, azzz, non la sua, ma non la sua, la sua, la sua, la sua, non la sua, ... ... ... ... No, non c'è il fine che sia la mia, non c'è il fine di andare in ogni rulo. Non c'è la mia, non c'è quello che ha. Non c'è quello che si sente, perché la mia Quốc comme l'Ama di morte è la mia e la mia. Ma saprei che io continuo a ripetarmo a Sarantè. Tanto l'uola della Germania intene, ma dov'è così che ci hanno un bel attacca di... e il cittadino. Dov'è così che hanno un bel attacca di il cittadino? C'è una vista nata a Vufthani, e una sinitta... una sinfurtnè. C'è una vista nata a Vufthani, Ci sono diventati, ci sono diventati inар facti. Ci sono diventati in Israfa, ci sono diventati inizialmente. Ci sono diventati inizialmente. Ci sono diventati in una Pocahia, quindi ci sono diventati iniziale, ci sono diventati iniziale. Ce non è l'esplorazione a Cattano, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Segnati su noi, mi ridano. Nialati e nianni, lei, ed è arrivato. Arrivati a nialati e nianni, ed è arrivato, ed è razzato in spazio, ridano. Arrivati a ridarli, se inna fa una volta in dettagli, inna patrò sull'uono e fanno ridarli, quindi la stessa dei? La stessa dei dei. E dice che urbella, le fama un'u... 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 Ficolo il bambino volte. Il bambino niente volte e i fissi non fara씩, ma non finite l'ai capta. Ma indietro spesso non fa falle kalare. Viss pray come voi Hindrini e chiar», state le bov GLGUE doctora Alvolvittilia Switzerland. arte o semplice in casa e l'onore dei sovrapposti come rilascio è molto importante non è un uomo c'è una nuova ora dove siamo tornati ho portato La bambia si succeda. Ci si riempirà, è la prima cosa. E dice che si riempite, al sábado, per favorevo la Manchester City, il nostro sito è vero, ma non mi senti, non mi senti, non mi senti. C'è il barbato a questo, ma non mi senti, ma non mi senti, ma non mi senti, ma non ti senti, ma non mi senti, ma non mi senti, ma non mi senti, ma non mi sento. Segue un quando ci si muo? Per te sei che vi ho fatto un'amaneio. Ho un'atticcio è un'amanemmeno, ma mi ha detto anche, ma mi ha detto che mi ha detto che non mi era aile. Non mi era aile come la domanda, ma sai che solo. Non si era aile come la domanda, era aile quando mi era aile, poi avevano come i luci, e avevo? E poi avevo detto, di un bellino ciocca andrea tati e che ne abbiamo che la sua crab si è giusto e non trattato parli di un bellino di un bellino Inizia il piede di qui, unストロ territorio pelle devono riuscire. Inizia la città di qui, il piede di qui, il piede di qui, il piede di qui. L'amore della città, la città di qui, la città di qui, la città di qui, la città della città. Il piede di qui, il piede di qui, mi sono riuscire in un giro. Come ho capito della mano della città. Perciò il piede è necessario. e non sono sordati, non lo avendo Мfiazione, non in visione da fin di visione. Akanzo rahim Nafiat. Akanzo rahim Nafiat, oggi nemmeno usare akanzo lato Nafiat, in senzio, non lo soggiorano, non lo soggiorano, apporto di violenza. Grazie. 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 Si sono state informazioni come mangiungo, non sono state informazioni, se vengono in questa fatica, se lavano oltre a un po' di maledio, non è stata considerata per la testa, se vengono aziendali sempre, se no c'è il risultato, si vengono quando si fa, si comportano il risultato della conscienza. Infosizioni sono danse, c'è un problema di risultato, peggio, ciò hanno bisogno di controllare, Ancora la viagre e ci sono a dei mangi di luce. A cănzut, a cănzut, a cănzut pìbì. Ci sono a dei mangi che a cănzut pìbì. Mazz, a cănzut pìpade passa a te mazz. Mazz! Fa sempre a le halveri, non è un giocato a cănzut pìbì Ну assolutamente. Tomecci natura, tomecci ra mūtù? viene c'è un b c'è un b c'è un b in modo che in modo che papattesa da te o qui sarà un bambino se non lo vediamo si palazzo non lo vediamo ok papattesa da te ola cara papattesa da te ola è una cosa facile è una cosa facile questo è così io sono sempre non è non è non è che ma è I Drakufa nemmeno sai lai I Drakufa nemmeno sai lai Tanti di risa Eva tali Jesuas Christi tauide Di voi buona di tutto il mio Fila sa I Drakufa You Aspala la mancara Senrata Eva nemmeno aspala la mancara Senrata Senrata e non è bella di tappa sarà da canna di marcia andremantrami la lentelecce che te ho stiamo sani li fattava sarà che te ha una bella sani si stiamo saracattami in sani si stiamo saracattami stiamo sapendo non c'è uno bella non c'è uno bella lascia 1977 ma 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 i i as ASTEI APANGA HONATSIGEPETEN WIS PAPA KENARHanos NAPATSIGEPETEN WIS PAPA KENARHAU TATSIGEPETEN SAI ATTRA PUSINNA VI RESPATADA ACAMPITANANDAR ALEGANIS PAPA KENARHAUTIAVANITI SIR LODEMO SE PANSAGEN SAFI PARA KENARHAUTIAVAN TE RUBANANTA NIX ERE MAGNO qui hanno svolto a ragazzi, non si svolto, non si svolto. Che non si svolto, non si sazza, non si svolto. La spesa che non serve un'uposto a rassa. Ano no? Non si sa barata? Ma allora, che si può fare un'appolo, il popolo di aver guardato, perché non si sa razorando, ma ora che spettiamo di chiacchia, lo voglio però la sanno fatta la contom forgotten, l'altro si è fatta la contompa, l'altro si è fatta la contompa, l'altro si è fatta la contompa, va a mettere l'anima, ha detto quello? Volevo dire quando si è fatta la contompa e lo chiede, 4. Di wife 4. Le Pos battag di 1. 1 2 1 2 2 che si sono andati a doverti, essere anche nella nostra vita. Ecco, io z'ergo mi ha scutato, perché è un po' della parte che gli erano, gli erano con il nome, si sono andati in cui gli erano, in questa parte le erano, in questa parte le erano. adesso 7 7 7 10 11 12 Fugati fissarà nata mademati Faggati fissarà nata mademati Faggati fissarà nata mademati Tentungani uso Consecanza fissarà Consecanza di fava tesà Miscat su no è fava tesà Inna le fava tesà nato Fissarà nanu tamna mademati Miscat su no è fava tesà Famicta le fava tesà Fugati fissarà nata mademati E phà tesà Fugati fissarà nata mademati Distri zu enterpa Fugati fissarà nata mademati Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. ... 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 Chaggiatura Ma la mano fa più c'è Il segno è sul Farà voi Per venire non vedi non vedi non vedi non vedi, non vedi 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 ne sui Io che non vedi non è Yougà Io come no noi il Yougà Basta Io che mi piace La Snovata La Svita Y야� La Svita La Svita La Svita La Svita La Svita La Svita Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.